Eccoci qua la nuova puntata del nuovo anno. Oggi parleremo di un tipo di poesia particolare che non sempre siamo abituati a leggere ma che comunque è abbastanza diffusa. Già per esempio, mi viene in mente, Saba utilizza lo schema metrico di questo tipo di componimento. Comunque il componimento poetico in questione è la Ikub, che è un componimento giapponese che nasce di fatto intorno al XVII secolo ma ha il suo sviluppo effettivo circa tra 1600 e 1800, ha questa influenza molto forte. E si sviluppano dei poeti, poi saranno i poeti scrittori giapponesi più importanti di questo componimento. Allora, ha una struttura particolare, cioè si forma, è formata da tre versi e dallo schema 5 più 7 più 5 sillabe. La Ikub solitamente ha come tema ricorrente una stagione, una delle stagioni, quindi c'è questa presenza di un termine che fa una delle stagioni e solitamente lascia, trasmette un senso di tempo sospeso come fosse quasi una nota musicale ma comunque rivela una morale di fondo. Allora, oggi analizziamo una Ikub, cioè analizziamo, oggi leggiamo una Ikub di questo poeta giapponese, Issa. Ecco, ad esempio, per parlare di date più precise, questo poeta viene collocato tra il 1753 e il 1828, quindi è proprio quel periodo lì il periodo di sviluppo di questa attività poetica. E ora andiamo a leggere, però comunque era un poeta, tra l'altro, che non aveva neanche delle condizioni economiche agevoli, quindi ha avuto una vita con una serie di vicissitudini. Metto in descrizione al video la vita dell'autore. Allora, leggiamo dove è andata a finire. Dove è andata a finire? Allora. Allora, prima di leggervi questo haiku, volevo anche dirvi che ho trovato scritto che i suoi componimenti poetici non riflettono i suoi stati d'animo spesso e volentieri, che in realtà non era uno stato d'animo felice quello che provava Issa, il poeta, appunto. Però leggiamo questo haiku e vediamo un po' cosa ne pensate. In questo mondo dall'alba già tribola pur la farfalla. Allora, forse qui ho beccato proprio il componimento che, secondo me, invece, considerando la vita che ha avuto, una vita non del tutto agiata, non una vita non del tutto favorevole, un pochino ci ritrovo anche il poeta stesso. Però, effettivamente, esprime una morale. Poi, ad esempio, mi ricordo, sono quella serie di componimenti, come per esempio, che suscitano appunto una determinata riflessione, perché per esempio, ne avevo letto anche un altro, anche quando soffriamo i ciliegi sono in fiori. Lo ricollego un po' a questo haiku che, tra l'altro, mi era capitato di leggere, perché comunque c'è una visione sempre della sofferenza, del dolore, e gli haiku ci insegnano delle verità rispetto a questi sentimenti, anche nella malattia, perché molti haiku sono costruiti anche su questo discorso della malattia, per esempio, basho, non so come si pronunci, e ora c'è comunque una speranza, c'è questo aspetto anche di vedere il mondo anche in Issa in modo fanciullesco, quasi appunto, e effettivamente poi i componimenti lo rivelano, questo aspetto fanciullesco appunto. C'è la speranza che ci tiene in piedi, nel caso, per esempio, della ihu dei ciliegi, chiamiamolo così, effettivamente i ciliegi fioriscono nonostante la sofferenza del mondo, quindi effettivamente l'ultima parola è la parola della vita, contro la pesantezza dell'essere, contro un'esistenza appunto dolorosa. E ora, invece di là, nel componimento di Issa, abbiamo una farfalla che tribola già dall'alba, cioè già dal sorgere del sole, quindi anche qua sembra più essere una visione quasi pessimista dell'esistenza, che anche le cose belle, perché la farfalla comunque è un qualcosa che ha un aspetto elegante, eccetera, anche la bellezza sembra quasi soffrire, che non lo so, mi viene in mente una cosa del genere. In questo mondo anche le cose belle, insomma, tribolano. Quindi se ne possono trarre infiniti significati da questo Aiku e da tutti gli altri Aiku, e appunto in tre versi ci manifestano, insomma, gli autori delle verità, insomma, dei punti di vista, però anche delle morali significative, profonde. Quindi io vi saluto e ti vediamo domani. Ciao ciao!